si chiamano lupi di mare perché come l'astuto animale terrestre che unisce il coraggio e la conoscenza del territorio i marinai più esperti e di lungo corso lo sono in mari capitani coraggiosi che mille difficoltà hanno affrontato navigando ogni marineria ne ha compresa quella fanese e ogni anno per la festa che celebra il rapporto della città col mare il comune di fano consegna benemerenze ai suoi lupi di mare domenica in occasione della formale cerimoia erano presenti i ragazzi classe 1934 che di mare e marosi nella loro carriera ne hanno presi molti consegnate anche le onorificenze belliche a due fanesi alla memoria di roberto aumiliere del 24 e a lidio pascucci del 20 che ha ritirato personalmente l'onorificenza ambe due impegnati nel secondo conflitto mondiale sguardi fieri e orgogliosi su quei volti scavati dal sole e dal sale antonioni marino è uno di loro uno che ha preso il mare per la prima volta a dieci anni sulla barca del padre grilon e che ora ne ha 82 la maggior parte dei quali passati in mare comandante le ha fatto piacere innanzitutto questo questo riconoscimento molto mi ha fatto piacere e ringrazio per l'attestato di stima nei nostri confronti parlo anche a nome dei miei amici o compagni di mare ringraziamento il comune di fano il sindaco seri che ci hanno fatto questo diciamo abbiamo vinto una gara diciamo abbiamo superato il traguardo delle 82 primavera e così continuiamo no andiamo avanti ho fatto il retaio riparatore di reti ti dirò in un primo momento le barche erano tante che quasi quasi rimpiangeva il mare diciamo ci sono stati degli episodi anche tristi come la mina che esclose al moto pescareccio anna in cui c'era mio zio all'epoca aveva 16 anni è stato un dispiacere enorme poi nel 64 i miei amici di un certo perugini riccardo tonti cesare sfersero un fortunale tremendo e persero la vita ancora quanto ci penso ancora ho tanta commozione quella volta nell'arco della miglia diciamo negli anni passati in mare non ho mai visto una cosa del genere non si è più ripetuta diciamo una tempesta così sembra di paragonare qui tsunami adesso che si ripercuci nel giro dei nord nel mondo insomma ma non solo episodi brutti anche momenti belli di questa vita in mare se i momenti belli quanto nelle reti da posta diciamo calavamo le reti insomma erano gonfio di pesce insomma allora quello erano i momenti belli anche se i delfini a volte ci facevano i dispetti ci mangiavano una buona parte del pescato nella vita insomma marinara ci è capitato di essere anche catturata catturati da tito all'epoca insomma diciamo nelle coste jugoslave a volte anche senza essere nel senso trasgredire diciamo che quando venivano fuori diciamo le pilottino i mas perché non venivano fuori veniva fuori tutta la flotta per catturarne di più diciamo e com'è andata e com'è andata ci hanno catturato guarda caso io ero imbarcato su un pescareggio e il mio nome invece era un altro pescareggio un certo fumetta perché era stato catturato allora hanno chiesto il mio nome diciamo perché se ti prendevano con lo stesso nome per la seconda volta e c'era la confisca dello scafo allora è andato un momento c'è stata catturata entriamo nel porto di pola però io ad essere presente nella nave e diciamo lo nella barca come la vogliono chiamare ho detto beh adesso come si fa adesso sto scherzando mi è venuto in mente il film di tarzan con john james muller ho preso il paranco ho messo uno due tre mi sono catapultato nell'altra barca e immagini qualche bottarella però allora c'è la gioventù l'euro